Musica Bene, andando poi fra l'altro il problema del voto, soprattutto per chi ci segue dal Piemonte ma anche tutto il resto d'Italia in primavera, una primavera bella calda e bella bollente, ci sono le europee, si mormora le regionali, le provinciali dove ci sono e poi una marea di comuni come ci stiamo preparando per questo punto Si mormorano anche le nazionali e si mormorano anche le politiche Addirittura in Italia, immaginate, votano in primavera 4.000 comuni su 8.000, quindi vota metà delle città italiane vanno a voto sono 220 città superiori a 15.000 abitanti, 26 capoluoghi quindi immaginate che una tornata elettorale è fondamentale e la possibilità di esercitare il diritto di voto è determinante Noi in Italia dei Valori ci stiamo organizzando in maniera molto semplice per un partito politico quello di presentare le nostre liste con il nostro nuovo simbolo in tutte le città dove è superiore a 15.000 abitanti e le altre il sistema di voto prevede che ci siano liste civiche, coalizioni, quindi lì non sarà possibile e adesso l'Italia dei Valori, ma non come partito che corre da solo ma che cerca di costruire insieme ad altri partiti una proposta di governo credibile della città nell'ambito di un centro-sinistra che sia diverso dal centro-destra perché siamo culturalmente diversi, nel senso che rispetto a un problema noi dobbiamo fornire soluzioni diverse se questa differenza non si vede più, quello che sta accadendo con il governo italiano alla fine non trovi nemmeno un risultato